Buonasera a tutti, sono Mulli di Simone, sono il responsabile tecnico della società Electro System con Serie Amandas. Noi ci occupiamo prevalentemente di impiantistica elettrica a 360 gradi, facciamo illuminazione pubblica, videosorveglianza, sistemi d'allarme. Diciamo che lavoriamo in tutto il settore a 360 gradi e ci occupiamo prevalentemente dell'impiantistica e facciamo anche qualche condizionamento ma quello diciamo che lo accantoniamo. Siamo in Sardex da circa un anno, posso dire che abbiamo ottenuto ottimi vantaggi da un anno da questa parte perché Sardex è un ottimo progetto. Noi come azienda Electro System abbiamo avuto di ottimi vantaggi perché abbiamo conosciuto moltissime aziende da un anno da questa parte e oggi diciamo che all'interno del circuito abbiamo tantissime aziende che ti possono offrire o ti possono, cioè ti danno un po' di respiro visto il periodo di crisi che siamo, purtroppo siamo in un periodaccio. Sardex ti dà una mano. Oggi abbiamo tantissime aziende, ci sono le farmacie che comunque per una famiglia spendere delle medicine non è poco, invece tu hai dei crediti, li spendi e vai e ti compri le medicine. Per esempio io mi sono fatto le ferie e mi sono potuto permettere di farmi le ferie in Sardex che sicuramente in euro può darsi che non me le sarei fatte, invece in Sardex le abbiamo fatte in un bellissimo posto. Le vantaggi di Sardex sono ottimi perché comunque i crediti, a parte che tu nel momento in cui fai un lavoro non devi aspettare come purtroppo si fa con i privati o con i comuni che devi attendere 60-90 giorni, invece con Sardex in automatico hai soldi. Altri vantaggi che comunque c'è per la nostra azienda la manutenzione dei mezzi, l'abbigliamento da lavoro e poi in più tutte le altre cose a livello familiare. Il Sardex per la Sardegna è un vantaggio perché diciamo che le aziende che sono intorno al circuito ormai si conoscono quasi tutte, però hanno dei contatti ed è una garanzia perché se io fado fare un lavoro a un cliente in Sardex, logicamente lui prima di dare un lavoro a me si informa chi siamo, poi c'è il guardiere generale di Saramanna che da lì partono le chiamate. Diciamo che a noi ci ha fatto ottenere nuovi clienti perché essendo entrino di circuito logicamente acquisti più clienti e con questi clienti puoi anche avere nuovi altri clienti perché non è che io mi auguro che il circuito non si fermi solamente su Sardex, anzi si deve ampliare, perché se un cliente in Sardex poi c'è il parente che deve fare un lavoro, un impianto elettrico, chiama a me perché si fida di me che gli ho fatto il lavoro in Sardex. Noi come società consigliamo Sardex alle nuove aziende che vogliono aderire a questo circuito, a questo progetto. logicamente non penso che a oggi possano entrare tutte le aziende perché sennò diventerebbe troppo saturo il territorio e logicamente andremo tutti in concorrenza, anche se ci possono essere dei vantaggi o degli svantaggi. Però comunque parlavo con un amico da poco e lui vorrebbe entrare, ha chiamato Sardex, è lieto di attendere perché al momento non c'è richiesta per questa azienda. Mi aspetto dal circuito Sardex, nel futuro ottime prospettive di lavoro, che entrino molti più aziende all'interno del circuito e mi auguro che entrino benzinai. Sardex lo consiglio a tutti, poi è veramente un progetto geniale e d'altronde Sardex siamo noi.